Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Un fine settimana non troppo difficile quello di Pasqua per il pronto soccorso del Murri di Fermo, dove sono 38 i pazienti in attesa di cure. Abbiamo parecchi pazienti in attesa di ricovero perché fisiologicamente nei ponti di festa diminuisce la possibilità dei reparti di dimettere, quindi a cascata diminuisce la nostra possibilità di ricoverare. In questo momento in pronto soccorso abbiamo 38 pazienti, alcuni da tempi abbastanza lunghi, che però sono comunque contenuti. Diciamo che abbiamo solo 7 pazienti qui da più di 40 ore, quindi considerando il ponte di festa non ci possiamo lamentare. Sul versante Covid invece qual è la fotografia? In questo momento in area Covid abbiamo 6 pazienti qui da noi, nessuno particolarmente grave, anche se quasi tutti avranno necessità di essere ricoverati, sono quasi tutti pazienti comunque particolarmente anziani. Con la diminuzione di pazienti Covid in condizioni critiche si sta lentamente cercando di tornare all'attività ordinaria per il reparto diretto dal dottor Giorgio Amadio, pur essendo malattie infettive l'unico che accoglie malati positivi. In ospedale stiamo cercando a fatica di ridurre il numero di pazienti positivi ricoverati in malattie infettive per dare la possibilità appunto al reparto di malattie infettive di occuparsi anche di tutti quegli altri pazienti che hanno necessità di afferire a questa unità operativa pur non essendo Covid, quindi di tornare un pochino alla normalità. È difficile perché pur non avendo tantissimi pazienti Covid in questo momento sappiamo che però pazienti positivi ce ne sono tanti e per com'è la nostra organizzazione attuale comunque vengono ricoverati in malattie infettive. La prima Pasqua di socialità, pranzi e ritrovi tra parenti ed amici dopo i due anni precedenti di restrizioni non lascia senza timori sanitari che tra una settimana potrebbero trovarsi con un'impennata di contagi simile a quella registrata dopo le festività natalizie. Speriamo che il vaccino continui a proteggere perché sicuramente assembramenti ci sono stati ma credo che sia naturale pensare che questo sarebbe successo. Adesso sicuramente è ancora presto per capire se avremo avuto un incremento dei contagi. Vedremo nei prossimi giorni.